ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui in un nuovo video di investire consapevole oggi vorrei fare un un'analisi per quanto riguarda il grafico del bitcoin vi ringrazio innanzitutto per essere ritornati qui sul canale chi è nuovo chiedo la cortesia di iscriversi al canale di lasciare un bel like se vi piacciono questi contenuti vedrete che col tempo miglioreremo il livello dei contenuti è il livello anche delle analisi per tutti quanti allora ragazzi innanzitutto volevo ricordare come ci eravamo lasciati la volta scorsa ovvero con questa freccia al ribasso che stava ad indicare appunto una probabile continuazione del trend ribassista di bitcoin ma andiamo a capire bene che cosa era stato rotto allora ragazzi innanzitutto era stato rotto il livello a 42 mila dollari infatti come vedete oggi è stato rotto il livello a 42 mila dollari che era quello che avevamo indicato come possibile supporto per una continuazione della bull run certo ragazzi il livello rotto di 42 mila dollari significa che probabilmente adesso ci andremo a muovere all'interno di questo canale che è tra i 42 mila e i 28 mila e 500 dollari che praticamente rappresentano un prezzo all'interno del quale bitcoin potrebbe nuovamente accumulare per poi proseguire quindi diciamo la bull run in questo modo qui ovviamente ragazzi non è da scartare l'ipotesi di una di un'oscillazione all'interno di questo canale ora questa freccia la possiamo anche togliere tanto non ci serve più perché siamo scesi all'interno di questo canale quindi ora dobbiamo capire che cosa succede ragazzi praticamente dicevo adesso dobbiamo valutare attentamente quello che succederà perché si potrebbe addirittura arrivare a dopo un ribasso si potrebbe entrare in questa zona qui che io vi ho indicato con questo rettangolo che indicherebbe quindi l'avvio secondo il mio la mia opinione la rottura della linea 28 mila e 500 dollari significherebbe l'avvio di un bear market su su bitcoin affinché ci muoviamo all'interno di questo canale qui potremmo vedere sì delle oscillazioni ma il prezzo potrebbe continuare a salire oggi ragazzi con voi vorrei guardare il sul grafico settimanale vorrei guardare questo indicatore qui che ci indica praticamente la le regressioni per quanto riguarda i fasi ribassiste e fasi rialziste allora innanzitutto ragazzi come potete vedere anche con quest'altro grafico arriviamo alla conclusione infatti che bitcoin è praticamente stato sempre all'interno di questi di questi canali e come potete vedere ecco vi carico un altro po di grafico ecco ora lo vediamo tutto il grafico ragazzi praticamente da dal 2012 2013 c'è sicuramente il grafico che ha rimbalzato più volte all'interno di questi canali ovviamente queste sono le regressioni lineari in modo che ci diano che possiamo guardare per avere un'idea di quello che potrebbe succedere allora vediamo innanzitutto adesso dove siamo perché se non capiamo dove siamo adesso non potremmo nemmeno capire a se stiamo andando al rialzo o al ribasso allora ragazzi praticamente in questo momento siamo diciamo più o meno al centro del 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 grafico delle delle varie curve e ci possiamo aspettare come potete vedere siamo a sta siamo stati abbondantemente in in una parte rialzista in questo intervallo qui che va dall 8 di febbraio fino al 10 di maggio questa settimana siamo usciti fuori da questo canale e quindi ci ci stiamo avvicinando a dei valori più bassi proprio per la visualizzazione che abbiamo all'interno di queste curve e potete vedere infatti che con queste curve chiudo questo indicatore con queste curve noi andiamo a considerare gli intervalli di fibonacci ecco ve li faccio vedere andiamo a considerare i vari intervalli di fibonacci che sono praticamente legati all 88.6 per cento 78 per cento 61.8 50 38 e 23 quindi considerate che siamo diciamo in una fase abbastanza siamo in una fase abbastanza rialzista in questo momento perché veniamo da vari momenti di rialzo che qui potete vedere varie settimane che hanno portato il prezzo del bitcoin a salire tantissimo e adesso ci stiamo riavvicinando alla normalità quindi questo diciamo questa entrata al ribasso in realtà non è altro che un riavvicinamento alla normalità vediamo vediamo che cosa è successo su sul grafico del del bitcoin proprio voglio vedere insieme a voi ragazzi allora innanzitutto togliamo voglio far scomparire questi indicatori e andiamo a cancellare i questo andiamo a cancellare questo livello proprio per allora scusate allora cancelliamo questo e cancelliamo questo perfetto allora ragazzi vediamo innanzitutto quanto di quanto ci siamo ribassati perché questo è molto importante da capire allora ci siamo ribassati al momento del 40 siamo giù del 45 per cento quindi questo ce lo segniamo meno 45 per cento quindi ragazzi siamo giù del 45 per cento adesso ma chiaramente se voi investite sul bitcoin sarete sicuramente abituati a livelli di questo tipo di ribasso proprio perché ragazzi sul bitcoin e le criptovalute in generale sono degli asset molto volatili quindi quello che dobbiamo adesso considerare è un probabile un probabile stazionamento all'interno di questo canale compreso fra i 42 mila e 28 mila dollari se proprio vi dovessi dare un riferimento come come indicatore vi porterei a con la media mobile allora vediamo la media mobile moving average la mettiamo e vediamo la media mobile a 300 periodi vediamo prima quella 200 per capire se l'abbiamo rotta allora no assolutamente no quindi la media mobile a 200 periodi è ancora molto lontana però se la guardiamo nel grafico orario scusate giornaliero potete vedere che la media mobile a 200 giorni è stata rotta quindi questo è un probabile segno perché dobbiamo anche considerare su che tipo di time frame guardiamo queste medie mobili perché all'interno di questi time frame andiamo a dare un significato diverso alle rotture delle medie certo se la rottura della media avviene su un grafico giornaliero è probabile che nel breve termine quindi un mese due mesi ci potrebbe essere un ritracciamento sarà però molto importante ragazzi vedere se questa rottura che vedete qui sarà una rottura che durerà per tutta la candela quindi per tutto il giorno oppure se il grafico si riprenderà e risalirà sopra quindi molto importante capire questo tipo di fenomeno perché se la candela di oggi chiuderà al ribasso sicuramente nel breve termine potremmo assistere a un ritracciamento anche abbastanza corposo invece per quanto riguarda la media a 200 periodi settimanale quindi il settimanale è quello che io guardo di più per il lungo termine perché 200 settimane ragazzi sono 4 anni quindi rompere al ribasso la media a 200 periodi settimanale significa probabilmente entrare in un beer market molto molto pesante infatti come vedete il grafico non è mai sceso al di sotto della media mobile a 200 periodi settimanale guardate l'ha toccato qui e qui parliamo del 2019 e addirittura del crash di marzo del 2021 quindi è una media molto molto importante proprio per proprio per questo motivo perché difficilmente è stata rotta al ribasso questo significherebbe davvero andare ad entrare in un canale molto molto pesante ancora più basso probabilmente di quest'area rossa che vi ho tracciato io però al momento ragazzi quello che mi sento di quello che guardo che vedo dai grafici è proprio questo dobbiamo fare attenzione allo stazionamento all'interno di questo canale perché se non ci si dovesse trovare più in questo canale rotto al rialzo significherebbe la rottura di questo canale appunto è una nuova fase rialzista rotto al ribasso significherebbe probabilmente un beer market bene ragazzi per il video di oggi è tutto vi invito a lasciare un bel like a questo video iscrivetevi al canale attivate la campanella e lasciate un commento se vi è piaciuto io vi ringrazio per la visione ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti